Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mancano poche ore al derby della Mole, Torino-Juventus torna alla Serie A dopo la pausa nazionale che ci ha privati di un po' di giocatori, tanto che il tema di questi giorni è la squadra che arriverà in campo contro Torino in casa di Torino, in un momento particolare per la Juventus che non è riuscita nell'ultima partita a consolidare perlomeno quanto più possibile la posizione nel confronto dell'Inter, perdendo parecchio terreno perché l'Inter ha continuato a far punti e la Juventus ha continuato a non farli se non a facerli. Quindi sicuramente la prova di Torino e poi quella che sarà il recupero della giornata d'andata contro il Napoli sono due partite decisive non tanto per lo Scudetto, per il quale come sapete io nutro poche speranze, quanto piuttosto per il consolidamento della posizione del podio, perlomeno per la posizione di Champions League, quindi di quarto posto in su. E' chiaro che quello è l'obiettivo ormai minimo, cioè non possiamo prescindere da questo, anzi sarebbe veramente un fallimento totale senza secondo me ombra di discussione l'accesso, non l'accesso alla Champions League, l'accesso in Europa League, dal quinto posto in giù. Quindi la Juventus si trova in un momento difficile per quella che è la classifica, per quella che è la situazione chiaramente dei convocabili e per quella che è la situazione di alcuni problemi che sono sorti, come sapete, con i tre dell'Ave Maria, di cui poi farò due paroline brevi a termine di quello che è stato il mio video di ieri. E innanzitutto Pirlo si è detto in qualche modo se è in difficoltà, sicuramente di fronte alla formazione perché sa che ha molte defezioni, defezioni che sono dati prima di tutto dal Covid, che sono gli strascichi della nazionale, parlo in primis chiaramente di Bonucci e di Miral. Resta ancora un punto di domanda, lo dice Pirlo stesso, su Scesni perché farà il tampone all'ultimo per capire se è negativo o positivo, spariamo negativo per lui prima di tutto, e quindi capire che mette l'importa perché un'altra cosa che non si voleva, e lo dice anche Pirlo che non se l'aspettava, è l'espulsione di Pirlo a distanza di tre mesi e mezzo per la bestemmia famosa contro il Parma. Appunto per questo, se Buffon sicuramente non può giocare e Scesni ha un punto di domanda, Pirlo ha detto che è già pronto, in alternativa agli altri due, il buon Carlo Pinsoglio, che potrebbe in qualche modo avere una partita in campo che è una cosa rara per un terzo portiere, perché solitamente avere due portieri, i primi due, chiaramente fuori è una cosa molto rara. Quindi speriamo che Scesni chiaramente sia ruolabile, anche perché non è un'unica questione, in caso di positività, non sarebbero questioni di Torino-Juventus, ma anche della partita contro il Napoli, e secondo me un'altra, quindi per lo meno tre partite. Quindi è chiaro che incrociamo le dita, incrociamo le dita per lui, per la sua salute, chiaramente, per la salute nostra, i tifosi che vediamo in campo, il terzo portiere con tutto il bene che vogliamo a Carlo Pinsoglio. Invece novità positive, nel senso buono del termine, per Chiellini che come sapete era tornato anzitempo dalla Nazionale, si diceva l'infortunio, forse un acciachino, forse no, forse semplicemente concordato tra le società, cioè tra la Nazionale e il club, è ruolabile. Quindi Chiellini sta bene, probabilmente giocherà al fianco di De Ligt, visto che fondamentalmente sono loro che ci sono rimasti. Diciamo che le scelte domani saranno molto stringenti e non ci sarà anche la parte nostra, come dire, possibilità di lamentarsi, perché oltre a quelli che abbiamo, non possiamo mettere altri in campo. Quindi lo strascico dei nazionali si ferma a questo, sto controllando, effettivamente si ferma a questo. Tutti gli altri sono ruolabili e per ora non sono sorti i casi di Covid. Anche se fare attenzione, in generale, e questa è una cosa che aggiungo io, è in merito a quella che è la situazione di potenziali positivi dalle nazionali. Allora, il discorso della Polonia potrebbe riguardarsi lo Szczesny, quindi noi. Però attenzione che in nazionale italiana, dico, Bonucci è il primo dei giocatori usciti positivi, ma attenzione che nello staff di Mancini sono ben 4, e dico qualche fonte, il messaggero diceva oggi 8 positivi dello staff. Ecco che potrebbe esserci, e qui Bonucci l'ha preso da uno di questi, perlomeno i primi 4 che sono confermati, potrebbe esserci un mini focolaio. Il problema è che, a differenza del club, il focolaio, quando si parla di nazionali, sono persone che vanno in un gruppo ed escono e vanno in più gruppi. Quindi attenzione che potrebbe esserci un impatto anche su altri club, che non si potrebbe magari rilevare adesso in questa partita, però magari in quella dopo per il discorso dell'incubazione. Quindi attenzione che non ci sia un problema anche di positività dei giocatori delle nazionali italiana, e quindi potrebbe portare, chissà, magari a precedenti, visti i precedenti di cui conosciamo mai l'esito, dei rinvii ad esempio inter-sassuoli, eccetera, a dei rinvii delle partite. Perché non si è capito che il protocollo non serve a nulla, pertanto, forti di questo precedente, non ci saranno difficoltà da parte delle ASL e dei club stessi per ottenere il rinvio e togliersi il problema e posterciparlo. Poi voglio vedere come eventualmente riusciranno a colmare questa partita nel calendario rimanente, che è veramente povero, ormai siamo a inizio aprile, non è che manchino tantissimo qui alla fine del campionato, sono due mesi, forse anche un po' scarsi, quindi diciamo che ci sarà da ridere per non piangere. Quindi questo è la Juventus che arriva a Torino-Juventus, la Juventus che come detto prima deve per forza vincere, non può sbagliare, un errore ora sarebbe, se è già stato compromesso con gli errori fatti la lotta a Scudetto, un altro errore comprometterebbe secondo me addirittura il podio, innanzitutto, c'è quello secondo me quasi certamente, ma potrebbe compromettere anche la qualificazione Champions, che non possiamo permetterci in nessun modo. Proprio oggi che si parla di quello che è rinnovamento, con la voce che sta girando grazie a Romeo Gresti ad esempio su Locatelli, quindi anche i progetti futuri, anche la permanenza di certi giocatori o l'arrivo di altri, è legato molto anche agli obiettivi stessi che ottieni, anche perché a differenza degli altri anni non è un momento in cui puoi perderti neanche un centesimo del potenziale guadagno dovuto ai premi, ai diritti tv, eccetera, eccetera, però i motivi non è che sto a dilungarmi su questo. Questo Locatelli chiaramente è l'esempio perché forse è la pista che si sta seguendo veramente, poi potremmo aggiungere qualsiasi altra cosa, attenzione quindi a questa cosa qua, molto importante tenerci concentrati per raggiungere tutti gli obiettivi possibili e immaginabili dal punto di vista sportivo che porteranno sicuramente a influenzare quelli che sono gli obiettivi di stampo economico che portano poi a valorizzare diversi investimenti. Quindi questo è molto importante da ribadire. Tornando un po' al discorso di ieri, dei tre della memoria come ne chiamo io, che sono appunto McKennie, Arthur e Dybala, ho fatto un video a cui vi rimando chiaramente con il mio pensiero. Pirlo ha giunto in conferenza stampa oggi, chiaramente i pensieri non potevano non dirlo anche perché la domanda è stata fatta, e ha detto che è stata sua la decisione di Pirlo, chiaramente concordata con la società, di escludere da questa partita i tre giocatori. Diciamo che di questi tre probabilmente uno, Arthur, sarebbe comunque rimasto a casa perché ha un problema sempre legato alla sua calcificazione alla gamba, però Dybala sarebbe stato ad esempio arruolabile, così come McKennie per quanto non abbia vissuto ultimamente un periodo eroseo. Quindi sicuramente un danno lo stai facendo perché ti porti due giocatori in meno che già sono pochi, quindi diciamo che questa è anche una prova di forza da parte di Pirlo sulla decisione e anche da parte della società che in qualche modo segue quello che è stata anche la scelta, la scelta in altri casi molto simile, cioè non legata alla pandemia, però magari di problemi dal punto di vista disciplinare, diciamo così. Questa cosa qua di Pirlo, questa scelta è sicuramente la decisione più giusta, nel senso che poi alla fine non devi creare un precedente, anche se qualcuno ha già in qualche modo parlato di quello che potrebbe essere un precedente, cioè il fatto di non aver utilizzato lo stesso metodo di giudizio nei confronti di un altro giocatore, che è appunto Cristiano Ronaldo. Come sapete Ronaldo un mese e mezzo fa, più o meno comunque eravamo in Zanarossa sotto le festività, non mi ricordo neanche quando, ma eravamo comunque in Zanarossa, si spostò dal Piemonte alla Valle d'Aosta per una vacanza, una vacanza con, una vacanza con la moglie e chiaramente violò il, non il coprifocco, ma chiaramente gli spostamenti tra regione dovuti dal DPCM anti-Covid e prese Namut, cioè sì, vabbè, 400 euro, poi ci ridiamo sopra perché 400 euro per lui sono i nostri 10 centesimi, però effettivamente andò così e la Juventus non fece nulla e anche se è un pensiero comune che magari ci sia stato un accordo tra le parti, cioè tra Juventus e Ronaldo, ci sono detti guarda io vado di qua, mi prenderò la multa, effettivamente secondo me è probabilmente andata così. È diverso chiaramente il caso di questi tre perché la violazione è la stessa, cioè diversa, una è lo spostamento delle ragioni, questo è il coprifuoco, però sempre nei limiti di un DPCM, quindi chiaramente è molto simile per tipologia di cosa non fatta, anche se poi la credibilità secondo me è molto diversa, cioè uno è andato dal punto di vista, guardato dal punto di vista del contagio, dal punto di vista legislativo in qualche modo, uno è andato a farsi una vacanza, lui e la moglie basta in un'altra regione, quindi spostandosi un po' di più, questi tre sono fatti al di là dei termini utilizzati, che sia festino, cena, cena, ragatta, chiamate come volete, poi come sapete ci sono molti dettagli a cui vi rimando che non voglio appunto dilungarvi, e appunto un ritrovo, quindi un ritrovo potrebbe essere anche da qualche punto di vista anche più rischio, sicuramente un ritrovo in un momento particolare in cui questi giocatori, promoti per l'altro, non stanno andando al massimo, chi è infortunato, chi sta tornando un infortunio e chi non sta andando al massimo perché non ha in grande condizione fisica, come ad esempio un meccanico che recentemente ha fatto qualche problema, quindi sicuramente dal punto di vista, e qui subentra la diversità professionale, che poi alla fine Juventus in qualche modo usa come scusa per la sua decisione non tanto la violazione di un protocollo, di una legge, di un dpcm, di quello che volete, quanto piuttosto una mancanza di professionalità, perché chiaramente significa valore del fatto che questa cosa avviene in un momento particolare, i tre giocatori che hanno, stanno andando in un momento particolare dal punto di vista calcistico, in un momento particolare appunto della Juventus stessa, e chiaramente da questo punto di vista è vero che entrambi hanno fatto una violazione, però in questo caso viene punita, secondo me, da parte di Juventus, non tanto la violazione in sé, che è un discorso tra Di Bala, Arthur McKayne e lo Stato, quanto piuttosto, beh, chiaramente l'impatto immediato che ha avuto, e credo secondo me è anche proprio il fatto, il contesto in cui avviene, e chi lo fa, chi lo fa è nel contesto in cui avviene, e quindi è vista più come una mancanza di professionalità, poi sicuramente in tutta questa punizione c'è anche un discorso di immagine, cioè alla fine si, due piccioni con una fama, si raccoglie quello che si riesce ad accogliere dicendo che poi alla fine si crea una sorta di empatia con chi, persone comuni, sta facendo i sacrifici e sta rispettando le regole, quindi poi si butta tutto nel nostro calderone, però fondamentalmente la differenza può essere nella mancanza di professionalità nel contesto in cui si atto questa mancanza, quindi potrebbe essere questa la questione. Qualcuno potrebbe però giustamente lamentarsi il fatto che c'è stata una diversità di trattamento, e potrebbe lamentarsi a ragione a farlo nel momento in cui si tiene conto che la mancanza di professionalità non regge, e quindi regge solo il fatto che entrambi hanno violato delle norme comuni e l'hanno fatto anche andando un po' a danneggiare l'immagine della Juventus, in qualche modo perché è stata fonte, sia questo che l'altro caso, di discussione dal punto di vista mediatico. Quindi sicuramente il tifoso può anche un po' risentirsi su questa cosa qua, su questa differenza di trattamento, però vorrei dire per il personale che le due cose sono molto diverse anche per il rischio stesso, il contagio e tutto ciò che ne consegue, anche perché poi rispetto ai dettagli ancora molto caotici non si è capito bene cosa avevano fatto questi qua, ma sicuramente non era una vacanza in due in Bale d'Aosta, quindi sicuramente c'è un po' di differenza. Vedo questo, alla fine Juventus ha reagito in questo caso come non poteva non fare, perché è chiaro che la rilevanza mediatica che ha avuto questo episodio è stata veramente molto molto alta ed è ridiscutibile. Una cosa vorrei dire però, è la differenza tra quello che facciamo noi e che fanno loro. Noi se dovessimo fare un errore del genere, al massimo potremmo pagare nei confronti dello Stato. Tuttavia loro no, loro hanno, quando firmano contratto, aderiscono, sottoscrivono anche un codice etico soggettale interno, che ha delle regole che noi non sappiamo di tutto, ma che possiamo interpretare in qualche modo, che sono ad esempio anche le stesse scelte di vita privata al di fuori, quindi vita pubblica, meglio dire. E quindi questa cosa qua è la differenza tra noi e loro. Cioè noi di fronte allo Stato siamo uguali, io sono uguale a Dybala, se non che per il fatto che per me 400 euro sono un po' di più rispetto a quando lo sono in proporzione per Dybala, però di fronte al mio datore di lavoro non devo in qualche modo comportarmi bene. Cioè se io prendessi una multa di 400 euro il mio datore di lavoro intanto non lo verrebbe a sapere perché chiaramente non sono un personaggio pubblico, ma anche se lo sapesse non mi direbbe nulla fondamentalmente perché non c'entra nulla col mio lavoro e la mia immagine non è in qualche modo collegata all'immagine della mia azienda. Differentemente da quello che succede per i giocatori di calcio che sono collegati con un club che fa dell'immagine e dell'impatto mediatico la sua limpa vitale. Cioè tutto ciò che si parla, di cui si parla, tutto ciò che consegue alle azioni dei giocatori è conseguenza diretta di quello che è anche il benestare della società stessa in un modo o nell'altro. Quindi è chiaro che non possiamo mai mettere a confronto gli errori nostri e i loro se visti dal punto di vista di chi ci paga. Cioè il nostro datore di lavoro che è il mio capo e il loro capo che è in qualche modo la Juventus diciamo così. Quindi questa è un po' la differenza che secondo me non è stata percepita molto bene dicendo spesso facendo i confronti ma anche molti, molta gente comune lo fa. Ho capito però poi di fronte allo Stato si paga uguale però ci sono interessi importanti e i loro stessi contratti che sottoscrivono con Juventus hanno anche questi punti qua in considerazione che sono molto importanti. Quindi non c'entra solo la dirigenza in campo e dentro le strutture della società ma anche quello che fanno fuori perché non sono, sono prima di tutto personaggi pubblici oltre che i calciatori quindi persone che tirano un pallone in una porta. Questo è il mio pensiero. Io vi saluto, vi rimando al post partito ormai di domani, domani dovrebbe essere questo oggi sì, sabato domani alle 6, la partita di Torino Juventus. Forza come sempre alla prossima, ciao!